Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo ventunesimo episodio della nostra sede di Minecraft Signori, allora oggi vi do il buongiorno dal tetto della nostra casa Perché signori? Perché voglio farvi vedere come sta cambiando la nostra zona Signori, guardate che sta avvenendo veramente bella, carina, grande Con tante belle costruzioni che piano piano andremo sempre più ad allargare Signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo raggiunto i 2000 iscritti, signori, di questo vi sono grato in una maniera terribile Ma dobbiamo puntare sempre più in alto e ho bisogno sempre di più del vostro aiuto Detto questo, signori, cosa faremo nel video di oggi? Intanto dobbiamo andare a... Mi sono impappinato, dobbiamo andare a mangiare le mucche, signori Perché senza le mucche le abbiamo messe qui come fonte di cibo primario e dobbiamo sfruttarlo al massimo, è giusto? Se no, che cazzola abbiamo messo a fa' qua le zone delle mucche? Quindi direi un attimino di rimpolpare le nostre belle mucchine Farle crescere Dai, signori mucche, è arrivato Aspettate però, fatemi levarle torce perché poi finisce che io sparo torce come se non ci fossero domani No, non avete fame? Vi avevo fatto mangiare l'altra volta? Brutte bastarde Non c'è nessuna che ha fame? Qualcuna, qualcuna sta mangiando, qualcuna sta mangiando È partita, è partita, è partita Hanno fame, hanno fame, signori, sono passati proprio i secondi nel momento giusto in cui si sono venuti a darle da mangiare Perfetto, signori, hanno mangiato tutte E la nostra zona mucche sta continuando a crescere in maniera esponenziale Bene così, bene così Guardate quante belle mucche che abbiamo Qualcuna forse potremmo anche già iniziare a ammazzare, che dite? No, 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 no Cuciniamoci le patate Cuciniamoci le patate che secondo me è la soluzione migliore La soluzione migliore per il momento, anche per la missione che dobbiamo fare oggi Che è molto blanda Sti cazzola di semini, sto vomitando Sti cazzola di semini, buttiamoli Sempre se riesco a buttarli da qua No, ok, qualcuno sì, qualcuno no Qualcuno sì, qualcuno no, qualcuno sì, qualcuno no Porca miseria, più no che sì Dai, via, 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 via Ok, abbiamo eliminato questi semini Andiamo a cuocere velocemente le patate Signori, e prepariamoci per l'avventura di oggi Allora, noi veniamo da due video in cui 26 patate Cucinale qua, dovrei averne un'altra Qui se non sbaglio Ah, due ce le ho già Che, no, vabbè, lasciamo la quinta a cuoccia Non si sa mai, non si sa mai Signori, noi veniamo da due video di costruzioni In cui abbiamo creato il tavolo degli incantesimi e l'incudine Oggi andremo a conquistare la torre pillager Che si trova in quella direzione là Sì, signori, oggi giornata di avventura Anche perché i prossimi due episodi, signori Ci vedranno Ci vedranno occupati Alla costruzione del mob spawner Che faremo lì Sopra il mare Faremo un grande ponte in quella direzione Io ho visto una costruzione Poi la torre E lì sopra verrà il Certo, perderemo la zona del tramonto Questo è vero Questo è un problema Perché noi abbiamo il sole preciso Che ci tramonta lì dietro Perderemo il tramonto Oh, 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 oh Non avevo rilettuto su questo discorso Che sta cosa enorme lì Però, vabbè Chi se ne frega del tramonto, signori Il tramonto Li conosciamo I tramonti sono belli Quando sei con la tua ragazza Quando sei da solo A ammazzare mostri Non servono a nulla Allora, signori Breve recap L'armatura ce l'abbiamo Le torce ce l'abbiamo Gli strumenti da combattimento Ce l'abbiamo Potremmo farci uno scudo L'ultima volta non ci ha portato benissimo Lo scudo Però, signori Bisogna sempre ritentare nella vita Facciamoci uno scudo, signori Perfetto Vediamo se riusciamo ad evitare Di morire più facilmente In questa maniera La vedo difficile Però, però, però Ci proviamo Va bene Aspettiamo un attimino Che cuociono queste patate Dopodiché, signori Dopodiché Partiremo all'avventura Per la conquista Della torre Pillager Signori, ci siamo Eccolo là dietro Che si innalza Alle nostre spalle Noi abbiamo Più o meno recuperato tutto Ho fatto 20 patate Che penso davvero bastarci Tanto, signori Dovrebbe essere una cosa Molto veloce Rapida e indolore In teoria In teoria Dovrebbe essere una cosa Molto veloce Senza grosse preoccupazioni Avviciniamoci piano piano Stiamo attenti Ah, io non ho però Un secchiello con latte Questo è un problema Questo è un grosso problema Signori Fermi tutti Non ho il secchiello con latte Direi Perché cazzo Perché cazzo Loro vuole il secchiello con latte Signori Perché se becchiamo Uno con lo standard Dobbiamo stare attenti Dobbiamo stare attenti Poi a non andare Nella zona Dei villageri Perché se andiamo Nella zona Dei villageri Con la maledizione Succede un patatrack Ora dimmi Che c'è una cazzarola Di mucca Qui nascosta Da qualche parte Che vuole contribuire Alla riuscita di questo video Ti prego Una mucca Guarda la contazione Bene, bene, bene In tutto questo Quel villaggio Non l'abbiamo mai esplorato Signori Questa cosa non va bene Non va bene Dovremmo anche andare A esplorare quel villaggio E fare qualcosa di carino In quel buco In quel buco Della montagna No, quello l'abbiamo visitato C'è il Il portale Che abbiamo distrutto Sono confuso Non era là il portale Che abbiamo distrutto In tutto questo Sta calando la notte Bene 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 Ottimo Ottimo Quando si dice Organizzarsi proprio Nei momenti giusti Per fare le cose E Che fanno Andiamo a dormire E direi di sì Signori Direi Altro breve taglio Signori Andiamo a dormire E ci rivediamo Quando stiamo per partire Per l'avventura Pillager Signori Decisamente sì In tutto questo Stiamo andando Al villaggio Di cui stavo parlando Poc'anzi Sì È quello che abbiamo visitato Signori Decisamente sì Lo sanno Che mi devono fare a dormire Penta di sì Ok signori Gli amici pillager Ci hanno ospitato Per la notte Perché sanno Che stiamo partendo Per una grande avventura Una grande conquista Che Di cui loro hanno Molta paura Non sanno Che un domani Qui Ci faremo Una farm Di pillager Signori Quindi Sacrificheremo Un loro componente Per costruire Una farm Di pillager Che Per quanto mi ricordi Da video che ho visto È abbastanza complicata Da fare Però Però Piano piano Ci riusciremo a farla Anche quella Signori Piano 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 Ogni cosa Al suo tempo Ogni cosa Al suo tempo Riusciremo a fare Anche quella Che cosa che non ho mai fatto In uno dei miei video Però Ci proveremo Andiamo Dove cazzo Sono caduto Ma stiamo scherzando C'era un solo buco Signori L'ho preso preciso Che cazzo Allora A me non è che Non sono cascato Di lì Praticamente Che ci morivamo male Va bene Piccolo fail Ma noi ripartiamo All'avventura Signori Spada in mano Non abbiamo paura Di nessuno Mangiamo Perché ok Che non abbiamo paura Di nessuno Però se ci andiamo Già che ci abbiamo fame Siamo messi Parecchio Male Attenzione No Ci sono gli alberi Di ciliegio Là sopra Signori Spettacolo Spettacolo Allora Tanti finti Pupazzi di neve Ok Non ha interesse Entrare Signori Non ha interesse Entrare Per il momento Non ci interessa Più di tanto Ecco lui Già ci prova Ad attaccare Dai così Dai così Dai così Maledetto bastardo Maledetto bastardo Ok Uno l'abbiamo fatto fuori Signori Spara Spara zio Spara zio Che ti ammazziamo male Alla conquista Aia Aia Annaggia A chi non te lo dice pure Dove sei Dove sei Brutto bastardo Spara Spara Ti ho preso in testa Ci ho piacere Ci sono gli alley Signori Ma li lasceremo qua dentro Per ora Non ho intenzione Di preoccuparmi di loro Che sono più che altro Una rottura di scatole in mano Ok 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 Siamo dentro Siamo dentro Siamo dentro E questa già è una buona cosa Siamo dentro Signori Torre villager conquistata Andiamo alla conquista Delle casse Signori Andiamo alla conquista Delle casse Buongiorno Salve E qui non ci sta nessuno Ok Altro piano conquistato Signori Altro piano conquistato Torcia Torcia Torniamo su Ma dovrebbe esserci anche gli standardi Va bene Superfluo Domanda che ci faremo dopo Salve E anche qui non ci sta nessuno Signori Ok Ultimo piano per noi E manco qui ci sta nessuno Oh Ma che cazzo Alla di cosa Attenzione signori Però Bello 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 Gli alberi La sola qui là Dobbiamo andarli a prendere per forza Signori Dobbiamo metterli nel nostro mondo Spettacolo Gli alberi di ciliegio Bello Bello Dobbiamo anche andare all'esplorazione Di quella zanella Lo faremo un giorno In un altro video Detto questo Ok Là c'è il tizio con lo standard Al quale dobbiamo stare lontano Là sotto Vedo una crafting table Ok Là dentro non so cosa ci sia Cavalli Gli abbiamo detto che ci sono gli alley Questo è rimasto fuori di casa Mi dispiace Se sei tornato tardi Non hai le chiavi E ti lasciamo fuori Là c'è un altro con lo standard Ok Che potremmo fare Per portarci a casa Ma sinceramente Ora vediamo E uno lo ammazziamo Vediamo cosa c'è nella cassa Signori No Il corno non c'è Il corno non c'è Ma abbiamo le patate Abbiamo le patate signori Cosa che ci mancava Le patate ci mancavano Poi abbiamo dei tronchi Di quercia scura Che non so che cazzo La farm E due pozioni di ampolla Di esperienza Che bella cagata di bottina Signori Io speravo molto meglio E invece E invece Abbiamo temuto Abbiamo avuto paura Di conquistare questa fortezza Ma è stato del tutto inutile Allora andiamo a ammazzare Un tizio con lo standard Così ci portiamo Lo standard a casa Lo so che ci sono Di standard anche di lato Lo so signori Ma è più bello Ammazzarne uno Così subito Ok Spada in mano Zio Zio Tu sei entrato Io esco Salve Benvenuti Buona casa a tutti voi Allora Secondo il corno Ora ce n'era uno Con lo standard qui Che mi è sparito Ok Qua c'è un golem di ferro Che lasceremo lì Dovete Ah ah Mi siete colpiti da soli Che cosa siete Dei pokemon Rincretiniti Dovete morire Dovete morire Dovete morire E io sto per morire In tutto questo Anch'io sto per morire Non si sa Chi deve morire prima Signori Ok Ok Calma 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 Be quiet Be quiet Mi serve un tizio Con lo standard Porca miseria Tu Vieni qua Fatti ammazzare malamente Fatti ammazzare malamente Dammi il tuo standard Ai Ai Si stanno ammazzando Da soli signori Vieni dai Il tuo standard E muori malamente Ok Signori È stato un piacere Io vi ringrazio Per aver parteciato A questo video Dopodiché Ce ne scappiamo via Velocemente Che sta finendo Un attimino Male la situazione Bene Mi stanno ancora inseguendo Sì Ok Ma non penso Mi seguiranno in eterno Ok Via 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 Beviamoci il latte Signori Leviamoci La maledizione Prima che passiamo Vicino a qualche villaggio E finisce Non male Peggio Siete ancora Avete rotto un po' le scatole Però signori Allora Io vi voglio bene Io vi voglio bene Ma il video Non può essere concentrato Tutto su di voi È giusto Porca delle vostre Anche tu hai rotto le scatole Tu sembri che non ci colpi E invece Oh Vaffan bagno Ok Così E muori Non mi dire che ce ne sono altri Perché io sto un attimino Delirando Ok Signori È tornata la pace Nella valle Di Minecraft Per caso mi avete droppato Una balesta Nessuno Nessuno mi ha droppato Una balesta Che pezzi di fango Va bene signori Detto questo La torre pillager è stata conquistata Obiettivo del video Portata a casa Senza morire Non abbiamo trovato il corno Però abbiamo trovato Gli alberi di ciliegio Che un giorno di questi Potremo andare ad Esplorare In avventura Per caso c'è qualche Uovo perso No Un altro Ma tu Tu che cos'è Ti hai riperso Della gita di Pocanzi Stai ucciso anche tu Sappilo La gita Non hai pagato la gita Devi morire Ok Detto questo Signori Penso che a questo punto Realmente ci possiamo fermare Gli alley Per ora Non li liberiamo Li lasciamo lì Ma sappiamo che ci sono Sappiamo che ci sono Un giorno li potremo portare a casa Detto questo Signori Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i giuditi E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per una prossima avventura Bella raga Guardate come sto pieno di frecce Praticamente Però va bene Bella raga Ciao Ciao